Un cortocircuito causato da un televisore collegato a un impianto sprovvisto di messa a terra. Sarebbe questa la causa più probabile dell'incendio che, poco prima dell'alba, intorno alle 5, è divampato in un appartamento al civico 170 di Corso Cavour, in pieno centro a Bari, dove si trovavano quattro persone. Le fiamme avrebbero così spaventato una di loro, la 53enne Michela Corvaglia di Potenza, al punto che la donna si è lanciata nella toromba delle scale dal terzo piano, morendo sul colpo. Feriti anche gli altri tre occupanti, il 54enne Giovanni Corvaglia, anche gli di Potenza, che si era rifugiato nel piccolo bagno dell'appartamento, la 26enne Valentina Russo e l'82enne Maria Santoro. Le due donne hanno tentato di calarsi dal balcone dell'appartamento, riportando ferite abbastanza gravi. Sono state immediatamente trasferite al Policlinico di Bari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio, oltre alle ambulanze del 118. Indagini sono in corso da parte della Polizia che nelle prossime ore cercherà di venire a capo delle reali cause che hanno provocato l'incendio.